Liturgia della settimana. Vangelo del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti. Coloro che sono dentro la città se ne allontanino. E quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta. Affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano. Perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Lode a te o Cristo.